E' come se ci fossero. Punto F attraverso Francesca R 11 giugno 2023 In generale può valere per tutte le medianità questo? In generale è una caratteristica di ogni medianità di un certo livello. Le entità preparano l'incontro prima. In modo che il canale sia preposto a un passaggio. Energeticamente si devono creare determinate... E' come se ci fossero tutte le luci da accendere in un corridoio per poter aprire una porta. E quindi noi pian piano iniziamo ore prima ad accendere quelle luci. Il momento in cui vi trovate qui apriamo la porta. A un certo punto chiudiamo la porta e poi piano piano rispegniamo tutte quelle luci. Questa è la preparazione prima e dopo. Questo vale per tutti gli strumenti e per tutte le situazioni di un certo livello vibratorio.